Buongiorno ragazzi, questo è un esercizio che riguarda il legame che c'è tra il potenziale elettrico ed il campo elettrico. Allora, noi facciamo sempre riferimento alla definizione, però adesso cerchiamo di scavalcare la definizione di differenza di potenziale perché noi poi effettivamente non faremo gli integrali. Io comunque la scrivo sempre e poi in base invece a ciò che abbiamo trovato andremo a fare questo esercizio perché noi abbiamo detto che quando il campo è uniforme, e poi qui capiamo perché noi stiamo dicendo che in questo caso il campo è uniforme perché potrebbe non essere scontato, allora la differenza di potenziale risulta semplicemente meno modulo di E per la distanza, se io adesso faccio la differenza di potenziale tra A e B viene AB, per il coseno dell'angolo tra il segmento orientato, quindi il vettore AB, ed il campo elettrico E. Quindi questa definizione poi noi non la useremo ovviamente, e useremo questa. Ora, qui stiamo vedendo in questo grafico un potenziale che sta cambiando in modo lineare con la posizione, cioè significa che a meno 6 metri dall'origine il potenziale fa 0 volt, poi a meno 4 fa 2 volte, poi rimane uguale a 2 volte fino a meno 2, poi sale di 3, poi scende. Allora, ragazzi, tanto per capirci, questa formula assomiglia molto, lasciando stare ovviamente il coseno, a il fatto che una variazione di spazio è una velocità per una variazione di tempo, ok? E assomiglia, così ci capiamo, a il grafico di, questo sembra un grafico di un moto rettilineo uniforme, in cui abbiamo la posizione che cambia in funzione del tempo, e dove il campo elettrico, diciamo, fa le veci della velocità. Ora, cosa succede in un grafico spazio-tempo? Che, se la posizione cambia in modo lineare con il tempo, è perché la velocità è costante. Ad esempio, un corpo che invece fa così, significa che rimane fermo nel tempo, quindi qui la sua velocità è 0, mentre, ad esempio, qui la sua velocità è negativa, perché la posizione diminuisce nel tempo. Quindi, però, ciò che mi importa è che, se ci sono variazioni lineari di posizione, allora la velocità è costante. Bene, ragazzi, la stessa cosa, per parallelo, succede ovviamente tra il potenziale, che è un po' come se fosse la posizione, e la posizione, che è un po' come se fosse il tempo. Cioè, se il potenziale, in funzione della posizione, cambia in modo lineare, allora ci sono dei tratti di campo elettrico costante. Bene, quindi, tanto per capirci che quando noi avremo un grafico in cui il potenziale cambia in modo lineare, nella posizione, questo significa, in funzione di x, questo significa che il campo elettrico in quell'intervallo è costante. Ok? Ebbè, se è costante barra, quindi uniforme, significa che noi possiamo utilizzare tranquillamente questa formula qua. perché questo è appunto la formula nell'ipotesi di campo uniforme. Quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratti lineari di potenziale, quindi ci saranno 6 tratti di campo uniforme, dove ovviamente per ogni regione il campo ha un numero diverso, come in un moto rettile uniforme, ci sono tratti a velocità diverse. Però in ogni tratto il campo elettrico sarà uniforme, quindi magari abbiamo il primo tratto, il secondo tratto, il tratto blu, poi il tratto giallo, il tratto nero, ed infine il tratto arancione. E noi come facciamo a trovare, ragazzi, quanto vale il campo elettrico? Allora, prima di tutto il campo elettrico è un vettore, e quindi ha delle componenti. Ovviamente se noi guardiamo la variazione di potenziale solo lungo la direzione X, significa che noi otterremo soltanto, cioè ci sta dicendo sostanzialmente, che questo campo elettrico, comunque possiamo ottenere solo informazioni, lungo la direzione X. quindi in realtà è come se ci stesse dicendo che il campo elettrico, o meglio quello che noi vogliamo studiare, è solo lungo la direzione X, mentre sulle altre componenti non possiamo assolutamente dire nulla. Quindi in realtà quello che noi andremo a studiare è EX, sulle altre non possiamo assolutamente dire niente. Bene. Quindi intanto qui è EX, perché siamo in direzione X. Allora, l'unica cosa che è diversa, ragazzi, rispetto a un grafico spazio-tempo, è questo meno. Poi, io devo trovare il campo elettrico. Ora, ebbè, per trovare il campo elettrico, quindi di EX, ok, io devo fare meno delta V su il mio segmento, vabbè, poi lo richiamerò AB, ma poi vediamo cosa diventa, per il coseno di teta. E uno dice, sì, ma io da sto grafico non riesco a trovare il valore di cos teta. Ma infatti, ragazzi, questa formula diventa molto più facile, perché vi dico come fare. Allora, intanto siamo solo in direzione X, quindi il campo lungo la direzione X può andare solo o di qua o di là. Non è che può fare tante cose. Mentre il vettore AB va solo di qua, perché adesso noi prenderemo solo vettori che puntano da sinistra a destra. Quindi la nostra direzione per quanto riguarda lo studio del campo elettrico va da sinistra a destra. Quindi, ragazzi, ci sono molte scelte per teta, nel senso che se anche il campo andrà verso destra, teta farà 0 e il coseno farà 1. Se invece siamo in questo caso, ok, teta farà 180 e quindi il coseno farà meno 1. Quindi, comunque, questo coseno fa 1 o meno 1 e mi va a giocare con questo meno. Quindi, volete capire in modo più bello senza andare in paranoia? Visto che questa quantità fa più o meno 1 e qui c'è un meno, allora, noi semplicemente ce ne freghiamo di questo meno e di questo coseno, ma andiamo a vedere zona per zona già il verso e la direzione del campo elettrico. E come facciamo? Ma è semplicissimo. Perché visto che adesso noi per ipotesi viaggiamo sempre da sinistra a destra, andiamo a vedere il campo elettrico dove in che verso va zona per zona. Allora, qui il potenziale sale. Allora, se noi ci dirigiamo in una zona in cui il potenziale sale è perché e questo è cosa che avevo già detta precedentemente, il campo elettrico va in direzione opposta. Poi, dove il potenziale rimane costante è perché il campo elettrico fa 0. Quindi, in questa zona il campo elettrico è nullo. Dove, visto che io comunque ragazzi sto sempre viaggiando ripeto verso destra, il potenziale sale perché passa da 2 a 3, allora il campo elettrico spinge verso sinistra. Poi, visto che qui il potenziale sempre viaggiando verso destra sta scendendo, allora in questa zona il campo elettrico sta andando verso destra perché sto seguendo, in questo modo seguendo la linea di campo il potenziale scende. Poi, qui, il campo elettrico è nullo perché il potenziale rimane costante. Questo legame tra potenziale costante e campo elettrico nullo ci perseguita. Quindi, sostanzialmente è come se in uno spazio tempo il corpo qui restasse ferme quindi la sua velocità fosse nulla. È banale. e poi andando sempre da sinistra a destra qui il potenziale sta diminuendo e quindi io sto seguendo la linea di campo elettrico. Quindi, io qui posso ragazzi ragionare semplicemente tutto in modulo perché adesso io direzione e verso li ho già trovati in modo grafico. Quindi, semplicemente adesso noi prendiamo tutto in modulo. Quindi, se devo studiare ragazzi il campo elettrico è come se io di questo meno di questa quantità e qui io prendessi tutti i moduli e quindi, ad esempio, se devo calcolare quanto vale il campo elettrico in questa zona io dico semplicemente che ho devo fare delta V fratto a B quindi ho una variazione di potenziale uguale a 2 perché vado da 0 a 2 diviso la distanza tra A e B che è 2. quindi qui il campo elettrico in modulo fa 1 e visto che va verso sinistra allora ci mettiamo un meno 1 qui fa 0 poi qui il potenziale fa 1 diciamo l'aumento di potenziale fa 1 in uno spazio di 2 quindi qui il campo elettrico come intensità è un mezzo col meno quindi meno un mezzo qui come cambia il potenziale il potenziale la differenza di potenziale è 2 e in uno spazio di 5 quindi è 2 quinti 2 quinti fa 4 decimi quindi 0,4 e visto che va di qua è più 0,4 qui fa 0 mentre qui il potenziale cambia di 1 in un metro perché passa da 7 ad 8 quindi 1 diviso 1 1 quindi così è immensamente più facile rispetto a fare i segni più e meno nel calcolo ok quindi quando voi fate il calcolo lo fate tutto in modulo e direzione verso lo si capisce ma la direzione in realtà si capisce qua che collega la direzione del campo elettrico il verso lo decide il fatto che se voi andate verso potenziali alti il campo in realtà va nell'altro verso e se voi andate verso potenziali bassi allora voi state seguendo linee di campo quindi se uno volesse fare un grafico del campo elettrico adesso è veramente molto facile quindi il grafico del campo elettrico è fatto così da meno 6 a meno 4 fa meno 1 quindi sopra la componente x del campo elettrico poi da meno 4 a meno 2 potenziale costante campo nullo poi da meno 2 a 0 aumento di potenziale quindi negativo meno un mezzo poi qui sto scendendo in potenziale quindi la componente positiva 0 e 4 fino a 5 poi potenziale costante campo nullo e poi potenziale che scende e quindi campo positivo uguale ad 1 questo ragazzi è il legame che c'è tra il potenziale ed il campo elettrico ovviamente potete cominciare a pensare come si potrebbe fare ma non è difficile a passare invece da un grafico campo elettrico ad un grafico del potenziale dal punto di vista matematico così ci capiamo passare da questo grafico a questo a parte il segno di un meno significa fare matematicamente una derivata e invece passare dal campo elettrico al potenziale significa fare dal punto di vista grafico matematico un integrale appunto perché tra il campo elettrico e il potenziale c'è appunto la funzione integrale che grafico